Allora, iniziamo con la domanda di Rito, che oramai penso che tra un po' chi ospiterà tra un po' si risponderà da solo, però non fa niente. Come è nata questa passione per l'informatica? Allora, è nata diciamo a metà tra i videogiochi un vecchio computer, perché mia madre aveva questo computer in ufficio, era un computer dell'86, che è il mio stesso anno di nascita, avrà avuto un 10-12 anni, lo dovevo non dismettere e l'ho portato a casa. L'ho portato a casa, chiaramente senza programmi, diciamo, aziendali, ma con delle cassettine, con dei videogiochi e un manuale di Basic in inglese. Io non conoscevo ovviamente Basic, né tantomeno l'inglese, quindi ho iniziato con le cassettine di videogiochi, e poi sono passato a copiare gli esempi di codice in Basic e ho scoperto che facevano delle cose. Diciamo, quello è stato il mio primo approccio, no? E poi, com'è che a un certo punto della mia vita è venuto del tipo, voglio fare questo di lavoro, ci ho ripensato varie volte, in realtà, nel senso che ogni tanto mi ricordo qualche aneddoto in più, no? Pensandoci. E sostanzialmente la cosa è questa qua, mi piacevano i videogiochi, come a tutti i bimbi, e quindi ogni tanto cercavo di comprarne qualcuno nuovo e costavano un botto, no? Quindi la mia paghetta non bastava. E da bimbo piccolo ho pensato, cavolo, ma questi che li fanno guadagnano un sacco di soldi se costano così tanto, no? Immaginati quante paghette servono per comprarli. E quindi ho detto, bada grande, voglio fare questo. Poi mi è passata subito, nel senso non ho mai fatto niente in ambito videoludico, però diciamo che quella è stata la prima molla che mi ha portato a questo settore. Ok, ok, interessante, no? Ecco, ancora qualcuno che si era avvicinato tramite i giochi forse non me l'aveva ancora detto, quindi ottimo. Quindi, poi hai subito iniziato a coltivare questa passione a scuola, quindi con qualche percorso già un po' più tecnico? No, no, per niente. Allora, il motivo è facile. Io vengo da un paesino al centro della Sicilia che ha tantissime scuole, ma non c'era un percorso vero da programmatori e sviluppatori, no? Quindi c'era i classici licei, qualche istituto tecnico. E le due alternative che avevano a che fare con l'informatica erano elettronica ed elettrotecnica all'industriale, oppure il corso come ragionieri programmatori. Però poi, siccome diciamo che a 14 anni avevo già iniziato a scrivere qualcosina, no? Ho visto che cos'è che si faceva nel corso come ragionieri programmatori, ho capito che non avrei imparato tantissimo, e quindi ho pensato di buttarmi su un'altra mia passione dell'epoca, che era quella del disegno tecnico, quindi io mi sono diplomato alla fine come geometra. E durante, diciamo, però le scuole superiori ho coltivato la passione, quindi compravo i libri dove, cioè diciamo i giornali dove veniva spiegato come fare robe di programmazione. E all'epoca avevo internet, un 56k lentissimo, che però mi permetteva di entrare magari nelle chat, o cercarmi qualche info, scaricare qualcosina, no? E diciamo è nato così. Ma diciamo che fino all'università era prevalentemente un hobby, nel senso che sì, ci facevo qualche sitarello, qualche cosa, però non avevo le competenze, cioè non avevo proprio basi. Quindi mi succedevano cose tipo, devo cambiare il leader di questo sito, quindi l'immagine, però io non sapevo come cercarla nell'html, no? E quindi andavo a cercare dentro le cartelle del template che avevo scaricato, caricato la foto, la aprivo con photoshop, gli incollavo sopra la mia, poi salvavo e chiaramente avendo cambiato l'immagine, cambiava leader quando poi raffresciavo la pagina. E quindi proprio non avevo idea, non avevo nessun tipo di base e così via. Mi sono iscritto all'informatica e lì invece ho imparato un po' di base, un po' di, diciamo, di cose un po' più tecniche, diciamo, per fare poi questo veramente come lavoro. Non mi sono mai laureato, lo dico subito, così togliamo ogni dubbio. Ok, però comunque gli esami che hai dato ti sono stati utili, tutto sommato? Sì, tantissimi. Cioè, allora io ho imparato a programmare all'università, quindi le varie programmazioni 1, 2, mi hanno insegnato proprio le basi della differenza tra, che ne so, un ciclo while e un for. Dico proprio due cose stupide, però per capirci. Tutta la parte di strutture dati, algoritmi, database, cioè io di quel mondo lì sapevo poco e niente. Quando sono arrivato all'università ho iniziato a coltivare, diciamo, la passione in maniera un po' più spinta, no? Quindi ho iniziato a capire come funzionavano le cose e anche a lavorare nel settore, perché ho iniziato assieme all'università e chiaramente, come dire, ero super affiancato da altre persone che mi spiegavano tutto e sostanzialmente io facevo il lavoro più manuale, no? Quindi mi dicevano, non so, c'è da cambiare questi 200 link in queste 200 pagine, mi mettevo lì e li cambiavo. Ora faccio sempre esempio un po' a caso, però è giusto per capirci. Però nel frattempo piano piano avevo occasione di magari chiedergli qualcosa, farmi dare delle dritte, così piano piano ho imparato un po' da solo, ma soprattutto grazie alle materie che ho fatto all'università che anche se non mi sono mai lavorato ne ho dato veramente tante. Ok, ok, va bene, va bene. Durante comunque questo percorso, ad esempio, hai avuto delle persone che ti hanno fatto un po' da mentor oppure se andate un po' ancora così di autodidatta, diciamo? Allora, dipende cosa intendi, perché se intendi proprio delle persone ufficialmente riconosciute come mentor, no. Cioè, non penso di averne mai avuta una. Persone che incontri durante la strada, diciamo, quindi ex colleghi, colleghi universitari o di lavoro o anche dei professori universitari che magari avevano particolarmente a cuore quello che facevano, tendevano a, come dire, farti appassionare, non nelle varie tematiche. Cioè, hai iniziato a fare lo sviluppatore web perché alcuni colleghi universitari già lo facevano come lavoro, il professore che ho avuto per web era molto carismatico, che comunque amava la materia, insomma, ce l'ha fatta studiare in un certo modo. Quindi mi sono appassionato a quell'ambito. E, secondo me, tutti abbiamo dei mentori. Cioè, secondo me, non esistono delle persone che si fanno da sole. Cioè, un'ispirazione ce l'hanno tutti. E l'unica cosa è che magari alcuni lo ammettono, tra virgolette, altri no. Nel senso che magari io nel corso della mia vita mi guardo ogni tanto indietro e penso cavolo, ma quante cose ho imparato da tizio? Oppure, quante cose ho imparato guardando questo canale YouTube, no? E quelli alla fine, in un certo senso, diventano dei mentori. Magari anche persone che non conosci. Faccio l'esempio dei canali YouTube o di un canale Twitch o cose così, no? Quindi magari delle persone... Assolutamente, sì, sì. Un po' per quello che facciamo. Magari le persone vedono in noi un mentore, ma noi non sappiamo neanche che esistano, tra virgolette, no? Cioè, magari le leggiamo ogni tanto in chat e poi magari siamo forte fonte di ispirazione. Così come nel nostro caso molti altri lo sono stati per noi. Ok. Arrivata la prima domanda, ora vediamo. Intanto proviamo a risponderle in sincrono, poi se ne arrivano tante le facciamo tutte in coda. Dice Lissi, che aspetto interessante? Esistono in realtà con la figura ufficiale di mentore? Allora, dipende cosa si intende per figura ufficiale, perché magari se fai dei corsi, anche l'ITS o dei corsi particolari, no? Di programmazione potrebbero avere questa figura all'interno del corso di studi. Quindi quella potrebbe essere una cosa. Quando vieni assunto, se la realtà è una realtà, ora passatemi il termine, una realtà seria, e magari viene assunto con un apprendistato, tu sei un apprendista che viene seguito da un, non so come si chiama, un tutor, che poi alla fine è quello che dovrebbe un po' farti da mentore. Quindi spiegarti come funziona il mondo dello sviluppo, il mondo in ufficio, come si lavora, e tutto il resto. Quindi sì, ci sono, e non, secondo me, in moltissimi settori, in moltissimi ambiti. Istruzione probabilmente non c'è nelle università o nelle scuole, però magari dei corsi privati, passami il termine, oppure gli ITS potrebbero avere delle figure come mentori, e sicuramente i contratti di apprendistato lo prevedono, poi anche lì da capire quanto effettivamente il mentore sia mentore, cioè sia in grado di magari ispirare la persona che ha, come dire, che deve seguire. Ottimo, ottimo. Intanto buonasera a tutti che state arrivando. Quindi, ok, a questo punto direi che la domanda che è di rito anche, consiglio che daresti a qualcuno che magari sta iniziando, quindi università sì, università no, oppure buttarsi sul lavoro o su un corso. Cioè, una persona, io tutto questo format l'avevo iniziato pensando ai ragazzi che stanno, ai ragazzi che stanno finendo le superiori, e posso capire che, soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo, c'è un po' di difficoltà a capire dove sbattere la testa, essenzialmente, no? Quindi questo, c'è un consiglio che daresti? Allora, ne do un paio, perché, allora, se me ne chiedi uno è difficilissimo darne uno. Vai, quanti ne vuoi? Esatto, perché secondo me il problema grosso di dare un consiglio è che un consiglio è troppo specifico per una situazione, no? Quindi cosa può succedere? Può succedere che magari dico iscriviti all'università perché è importantissimo avere delle basi, però tu non puoi andare all'università perché già lavori o perché, che ne so, non ti puoi pagare le tasse. Dico una cosa stupida, oppure perché magari vicino a dove abiti non ci sono università e non ti puoi spostare. E quindi è un consiglio un po' a vuoto, no? Quindi, secondo me, quindi la prima cosa, proprio per rimanere in tema, è se avete la possibilità di fare l'università, almeno la triennale fatela. E il motivo è semplice. Durante la triennale ci sono molte materie magari che nella vita non vi serviranno a nulla e questo un po' dipende dal percorso che sceglierete poi a livello di carriera. Altre materie invece sono fondamentali. Perché dico se potete farla, fatela? Perché l'università non è una cosa che vi preclude la possibilità di fare questo come lavoro. cioè non è come essere un avvocato che se non sei laureato e abilitato non lo puoi fare. Nel nostro settore puoi avere la terza media essere un genio del computer saper programmare nel miglior modo possibile avere tutte le skill adatte e riuscire a lavorare comunque. Però badate bene se andate all'università andate ad acquisire delle basi che sono sia capire magari la differenza tra due algoritmi in funzione di complessità e potenza di calcolo necessaria per eseguirli dico due stupidaggini che poi a livello lavorativo fanno tantissimo la differenza tra una carriera base quindi lavoro o uno stipendio fine e invece riuscire a fare dei gradini un po' più in alto. Quindi questo è il primo consiglio che do. Se potete fate l'università. Seconda cosa che poi è quello che mi chiedono un pochettino tutti sul discorso del ma che linguaggio di programmazione scelgo per iniziare a programmare e lì anche lì ognuno vi dirà un linguaggio diverso io se dovessi dirvene uno vi direi x magari Diana ve ne direbbe un altro che y secondo me la cosa più importante non è focalizzarsi sul linguaggio almeno sul primo perché la cosa importante vera è imparare a programmare poi cambiare il linguaggio è molto più facile che imparare uno da zero quindi se siete come dire volete scegliere un linguaggio scegliete il linguaggio che conosce una persona che conoscete perché così gli potete andare a chiedere le cose quando vi bloccate o non capite qualcosa e dice ma io voglio fare sviluppo web front end quindi mi serve javascript e invece la persona che conosco conosce python beh inizia con python fai sei mesi da autodidatta di python e poi vedrai che spostati a javascript è una cosa estremamente facile quindi questo è il secondo consiglio il terzo consiglio è non pensate che sia una cosa semplice perché è facile mettersi lì e studiare ore ma bisogna veramente applicarsi quindi non è una strada facile per fare soldi molti vendono in tre mesi da un programmatore guadagnerai n.000 euro al mese non è così perché a differenza di tanti altri lavori ora ti faccio l'esempio stupido il parrucchiere o il panettiere sotto casa impara a fare il pane si nel corso degli anni può apportare delle modifiche fare delle prove studiare e migliorare però passatemi il termine rispetto al lavoro che fa lui queste modifiche sono marginali ogni anno inventa due nuovi tipi di pane ok nel nostro lavoro se voi non studiate per mesi per due tre mesi diventate obsoleti perché i linguaggi di framework frontend parlo di quelli perché li conosco meglio ma questa cosa vale per tutti ogni sei mesi ne esce una versione nuova che include le cose nuove se voi per un anno non studiate siete due versioni indietro che è tantissima roba io vi garantisco che per due anni della mia vita non ho scritto codice e sono rimasto non indietro indieterissimo ho dovuto ricominciare quasi da capo perché l'ha cambiato tutto in due anni magari erano anche due anni sbagliati quindi questi sono senza dubbio i consigli che darei a chi vuole iniziare ottimo e Adriano in chat ci dice l'unico vero attestato secondo me per uno sviluppatore è il suo portfolio sì è vero è vero oppure essere molto bravi con l'occhio e saper dimostrare in un tempo molto limitato quello che si sa fare che poi è tutto un altro un altro settore che è quello delle soft skill riuscire a noi ci arriviamo sì scusa non voglio anticipare le domande giuro no 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 ora ci arriviamo perché tanto qualcuno probabilmente inizierà a chiedere quindi Adriano dice vai in vacanza d'agosto è d'angular 13 si arriva ad angular 24 più o meno esatto ok allora quindi poi primi lavori quindi già come frontend dicevi o generici no generici ok no io ho fatto no lavoro come sviluppatore ma non nel settore che diciamo che pratico ora ok ho iniziato con delle tecnologie di adobe una che si chiama shockwave è una tecnologia all'epoca molto in voga perché il web non era il web di oggi e quindi per fare alcune cose ti serviva flash oppure questo shockwave ho iniziato a scrivere codice con uno dei linguaggi che utilizzavano all'interno di questo non so come chiamarlo tool insomma di questo plugin di adobe che si chiamava lingo è un linguaggio sconosciuto e più già all'epoca morto subito dopo e permetteva di fare varie cose tra cui anche roba 3d che un po' si avvicinava col discorso ai videogiochi no e diciamo lì dopo una settimana che facevo quelle cose ho pensato no i videogiochi sicuramente non fanno per me e poi nel corso del tempo ho fatto tante altre cose tipo ho lavorato come l'uomo dell'IT cioè quello che fa il sito aziendale sistemi pc in ufficio cabla la rete cose così e anche lì ho capito che non faceva assolutamente per me perché a me piaceva programmare non era la mia attività principale e poi ho lavorato in alcune aziende ho fatto diciamo dopo queste due esperienze iniziali che era giusto capiamo un po' come funziona il mondo mi sono buttato sul web e sul web ho fatto un sacco di cose quindi ho fatto il libro professionista ho avuto una start up ho lavorato in una piccola web agency ho lavorato in aziende varie sempre come sviluppatore web partendo come quello che oggi verrebbe definito un full stack ma che all'epoca era lo sviluppatore web cioè facevamo tutto all'epoca perché non c'era questa distinzione netta ora non so se le persone che ci stanno ascoltando conoscono bene come funziona però oggi esistono sviluppatori front end e back end all'epoca le due cose venivano fatte insieme quindi io facevo le due cose insieme poi piano piano ho deciso di diciamo approfondire un po' di più il front end però conosco anche il back end ok chiaro quindi sfatiamo un attimo un mito l'importanza del primo lavoro cioè della prima azienda non è poi così tanto cioè non è così tanto importante perché molto spesso si sente soprattutto usciti alle università ah ma devo prendere un'azienda buona perché così inizio subito non è poi così tanto vero ecco allora io posso dire mia esperienza e quindi non è detto che valga per tutti ed è proprio veramente l'esperienza di Mitch allora io penso che non è tanto la prima azienda è il modo con cui tu ti muovi all'interno del settore ora passatemi questa cosa come vera no? cioè non è che ti muovi all'interno del settore più ti muovi all'interno di un pezzettino del settore della tua città se va bene cioè se vivi in una città piccola se vivi in una città come Milano c'erano centinaia di aziende che neanche conosci perché ovviamente è troppo grande e cosa succede? succede che se sbagli il primo lavoro cioè se il primo lavoro non fa per te qualcosa impari allora qualcosa la impari sempre anche nella peggiore azienda che usa le tecnologie più inutili e non utilizzate nell'universo qualcosa la impari poi è vero che se prendi una prima azienda migliore impari un po' di più ok? alla fine il nostro lavoro il nostro profilo non viene valutato per gli anni di esperienza sì magari in parte sì però la cosa che più conta è quello che sai fare quindi se vai come prima azienda in un'azienda super figa che ti insegna un sacco di cose magari dopo due anni saprai tante cose e quindi avrai un certo valore nel mio caso io i primi due anni li ho fatti in cose che non c'entravano niente quindi ho un po' perso quel tempo ma di contro ho fatto delle cose che oggi non uso magari a livello lavorativo tutti i giorni però comunque che sono utili banalmente quando facevo l'uomo IT ho imparato bene a configurare i server che ne so usare la shell e così via questa cosa oggi non è una cosa che faccio tutti i giorni per lavoro però se mi capita che il server dell'ufficio lo dico una stupidaggine si pianta quell'esperienza mi torna utile perché magari un minimo sul metterci mano ora sto semplificando moltissimo dei discorsi complessissimi però tutta l'esperienza è utile è chiaro che se come primo lavoro andate a fare non lo so il fattorino di un rider cioè il rider che porta il cibo a casa quello non vi servirà probabilmente come esperienza a meno che non deciderete ad un certo punto di andare a lavorare in un'azienda che fa software di quel tipo oppure di fondarne una voi perché anche in quel caso il primo lavoro che ribadisco ho preso all'inizio dell'università quindi non avevo ancora competenze tecniche l'ho preso perché siccome aveva a che fare col 3D e io ero diplomato come geometra questa cosa era utile ok perché avevo idea di come triangolare le cose di come che ne so posizionare gli oggetti in un certo modo all'interno degli ambienti e quindi poi potevo riversare queste competenze all'interno di quella cosa lì quindi sappiate che tutta l'esperienza fa brodo e poi un consiglio che questo ve lo do personale andare a lavorare nella migliore azienda del mondo come prima esperienza lavorativa secondo me è l'errore più grande che potete fare perché dopo che l'avete fatto cioè dopo che avete fatto questo passaggio per voi quella diventerà la normalità no? penserete che tutte le aziende fuori sono così buone e quindi magari a un certo punto vi stuferete deciderete di andare via e vi renderete conto che non è così invece fare un po' di gavette quindi vedere un po' di aziende diverse sia come dimensioni che come modo di lavorare vi fa percepire le cose in maniera più realistica quindi secondo me la prima azienda conta però non è male se si inizia cosa importante è questa con questo chiudo non fate la stupidaggine di non iniziare perché secondo voi l'azienda non è abbastanza buona perché iniziare trovare il primo lavoro è la cosa più difficile in assoluto in questo settore quindi inoltre avete trovato il primo lavoro avete fatto due anni di esperienza lì cambiare è molto più facile se invece state a rinviare perché magari lo stipendio non è esattamente quello che volete oppure la tecnologia non è esattamente quella che volete usare eccetera rinvierete il vostro diciamo inizio nel mondo del lavoro che poi coincide in un rinvio di tutto allora nel frattempo sono arrivate un po' di domande intanto questa affermazione poi vale sempre your millage may vary ok assolutamente poi questa qui che la leggo anche perché è un po' lunghetta allora parlando di Adobe mi viene in mente una domanda che non si fa quasi mai il buon amico ha tante esperienze e probabilmente ha vissuto il fallimento di qualche tecnologia che magari usava per lavoro e si è dovuto reinventare come si affronta la situazione del genere ti è capitato? allora si mi è capitato mi è capitato anche tanto al contrario cioè di scommettere tecnologie nuovissime che poi sono risultate vincenti allora la cosa importante secondo me è non affezionarsi alla tecnologia cioè la tecnologia è uno strumento e come tale va usato ok quindi c'è magari il periodo in cui ora dico una stupidaggia il react va fortissimo e quindi è la tecnologia del momento ed è da usare e conoscere magari a un certo punto molla un po' la presa arriva un altro framework la vera abilità delle persone brave è anche quella di capire quando è il momento di lasciare andare le cose poi è chiaro che si può cambiare si può come dire cioè magari una tecnologia a un certo punto sembra morire e si riprende o cose così però tendenzialmente diciamo il nostro lavoro non è fatto di gente che si deve affezionare al pc che utilizza o al sistema operativo o al linguaggio o al framework noi siamo delle persone che devono essere molto come dire cioè molto brave in questo cioè la tecnologia è fatta per risolvere problemi se quella tecnologia in quel momento storico non sta risolvendo problemi allora è il caso di cambiarla poi alcune volte muoiono per altri motivi però come dire anche lì è inutile concentrarsi su qualcosa che sai che di lì a poco verrà dismessa quindi quello è quello che dico e quando si studia una nuova tecnologia io direi che è sempre una scommessa cioè questo lo dico spesso anche nei video o in altre interviste che ho fatto cioè quando tu decidi oggi mi studio javascript angular php o qualsiasi cosa vi può venire in testa tu stai scommettendo su quella tecnologia il tuo tempo che è l'unica cosa che non puoi guadagnare cioè una volta che hai investito due anni di tempo su una tecnologia li hai persi per sempre ti può andar bene ti può andar male però fa parte del gioco quindi devi sapere anche che a un certo punto devi smettere di puntare su quelle e andare su altro eh sì infatti aggiungi la domanda mi è assorta perché ricordo ancora il fallimento di flash player che ha messo in difficoltanza quei sviluppatori è vero io ad esempio in quel frangente specifico sono stato bravo no? perché ho iniziato a vedere che HTML5 tutti parlano di HTML5 ho visto che alla fine risolveva gli stessi problemi era molto meno maturo chiaramente la tecnologia perché era proprio l'inizio non c'era supporto librerie non c'era niente poi ho detto cavolo però risolve alcuni problemi no? e quindi mi sono messo lì e ho detto sai che c'è e studiamo anche questo e quindi nel tempo libero studiamo quello quando poi ho capito che stavo proprio andando verso il baratro come dire mentre stavo per buttarsi sul botone io ho fatto un saltello e mi sono buttato sull'altro treno e questo mi ha permesso di rimanere appetibile per il mercato sempre al netto che ricordiamoci che se il vostro scopo non è fare carriera evolvere eccetera eccetera perché ci può stare se oggi conoscete tecnologie anche molto vecchie c'è magari qualche azienda nel in Italia non dico nel mondo ma in Italia che le utilizza quindi voi vi accontentate non volete aggiornarvi eccetera eccetera troverete qualcosa non è stimolante chiaramente come vedere sempre cose nuove provare cose nuove ok e allora un'altra domanda è questa secondo voi è possibile strutturare un'intera carriera come freelancer? allora tutto è possibile quindi non è non è una cosa del tutto impossibile anche se secondo me partire direttamente come freelancer è una cosa un po' più difficile non è allora non c'è giusto e sbagliato perché come dicevo all'inizio non esiste un'unica strada che ti porta all'obiettivo ne esistono migliaia però il fatto di lavorare da soli perché poi alla fine lavorando da freelancer tendenzialmente soprattutto all'inizio lavorerai tanto da solo perché piglierai progettini magari un po' più piccoli o un po' più come dire cioè progetti non troppo complessi perché sarai solo hai appena iniziato e magari non vuoi correre il rischio di sbagliare una cosa che costa un sacco di soldi per cui il cliente poi ti chiederà i danni e questa cosa all'inizio ti fa prendere di meno in generale poi se fai quello di lavoro sempre e non ti confronti con altri quindi non ora dico due cose stupide non vai a meetup non vai alle conferenze non vedi le cose nuove che escono eccetera rimarrai nel tuo orticello no? però poi non scoprirai che magari fuori dal tuo orticello c'è una foresta incredibile di cose incredibili e tu non le userai quindi assolutamente possibile e secondo me è una strada un po' più difficile secondo me è la cosa migliore in assoluto che si può fare però ribadisco pensiero di Mitch conosco anche tanti che sono partiti come freelancer freelancer sono bravissimi però non è da tutti quindi anche lì è secondo me in base al carattere il mio consiglio è fare un paio di anni in azienda per capire come funziona il mondo come magari anche come gestire un cliente come parlarci quanto costa il servizio no? certo tu parti come freelancer non sai quanto chiedere per il tuo sito e quindi dici ma scusa per i tuoi servizi quindi arriva il cliente e ti dice sai io voglio un gestionale che fa A, B e C quanto vuoi e tu magari ti fai dei calcoli ci azzecchi lo fai alto basso perché non sai effettivamente come funziona il mercato fuori e anche informandoti è difficile quindi viverla secondo me è una cosa migliore però tutto è possibile allora nel frattempo eh sì Scudo dice se sai fare network vai alla grande sì assolutamente bisogna essere votati per l'innovazione continua ma questo un po' in tutti i campi e Adriano ci dice secondo me partire come freelance è uno sbaglio io l'ho fatto ed è andata molto male bisogna prima fare un po' di esperienze se hai se non si ha conoscenze dei processi di sviluppo si fa troppa difficoltà anche perché bisogna gestire anche mille cose extra allora questo qua sul mille cose extra io dico anche quando sei super esperto comunque allora io ho avuto per un periodo partita IVA per un periodo anche abbastanza lungo diciamo nella mia vita e allora posso dirvi che avevo fatto un po' di esperienza ho detto sai che c'è però va a mettermi in proprio perché la vedevo come cioè quando tu vedi pensi a un freelancer non lo immagini lavorare in spiaggia un paio di ore al giorno a fare viaggi pazzeschi in realtà è un lavoraccio perché non solo devi scrivere il codice che è quello per cui magari ti pagano da dipendente da dipendente ma devi cercarti clienti cercarti eventuali fornitori per altre cose stare dietro alle fatture al commercialista alle tasse a mille altre cose che magari come era nel mio caso a me non me ne fregava niente a me piaceva scrivere codice io volevo scrivere codice è vero che poi da freelancer magari avevo la possibilità di scegliere che cosa usare senza nessun tipo di vincolo ma di contro il 50% del mio tempo lo spendevo per cose che non mi piacevano quindi il fatto che devi stare dietro a tante altre cose ce l'avrai sempre all'inizio queste cose extra potrebbero prendere il sopravvento tipo non sapere come farti pagare da un cliente quando lui dice sai che c'è non te lo pago il prodotto il sito web che mi hai fatto e magari tu la cosa che pensi è oh vabbè glielo spengo non sapendo che nel momento in cui glielo spegni commetti molto più un errore molto più grande del suo di non pagarti quindi ci sono un sacco di cose che bisogna sapere che non impari da solo quindi un po' di esperienza all'inizio secondo me ti aiuta anche perché se poi sei super forte sulla parte tecnica l'unico tuo problema rimane quello lì se invece non sei forte sulla parte tecnica hai sia il problema tecnico nel fare le cose sia quello di dover gestire i clienti il commercialista le tasse tutte le cose extra si la complessità aumenta poi a quel punto allora Virazzo dice secondo me da sviluppatore software freelance è più consigliato per i graphic design nel senso del freelance immagino questo io non so no non saprei allora penso che allora penso che sia dipende allora dipende molto da come ti posizioni perché ora dirò una cosa che magari c'è qualche graphic designer in mezzo alle persone che ci stanno ascoltando e mi picchia e eventualmente fatelo perché è giusto così però a livello di sviluppatore puoi fare veramente tante cose molto molto diverse fra loro ok quindi una cosa è sviluppare ora dico una stupidaggia un sito web una cosa è un applicativo nativo gestionale che fa uno sviluppatore frontend oggi potrebbe fare solo devops ok giusto per darvi un'idea mentre il graphic designer forse è una cosa più passare nel termine più ristretta non dico che ha meno campi perché poi c'è magari chi fa roba cattaccia chi fa web chi fa altro genere di robe però come dire tendenzialmente è meno complesso non che sia una professione meno complessa però è meno complesso piazzarti cioè se tu dici io nella vita in pagino libri ora non so se è una cosa che fa un graphic designer no una persona a cui dici in pagino libri lo capisce immediatamente che cosa fai se tu dici sviluppo siti web arriva quello che dici se io voglio un sito web dove però i miei dipendenti si collegano e mettono le ore che hanno lavorato questa settimana che non è più un sito web quella è un'applicazione web che è un'altra cosa ma per una persona media è più difficile comprendere questa differenza quindi se tu ti vendi come sviluppatore e non ti sai piazzare nel mercato giusto è probabile che ti arrivi un sacco di spam di richieste che magari non sei neanche in grado di esaudire ok quindi secondo me è un po' più difficile per questo poi allora Holistic si dice riguardo al discorso del periodo sabatico di due anni dalla programmazione mi domanda come questo intervenga nel caso di salti di carriera per cui uno sviluppatore decide di migrare a ruoli più o meno ceriati non è implicita una perdita di contatto con lo sviluppo quando cominci questa transazione significa che stai di fatto iniziando a rinunciare allo sviluppo è giusto così o è una considerazione un po' troppo generalista allora Holistic hai fatto una domanda che apre un discorso su cui ci potremmo fare una serie di live con Diana però semplifichiamola al meglio allora nel mio caso non è stato un avanzamento di carriera ma è stato proprio un cambio per quei due anni quindi in quei due anni ho deciso di fare proprio un'altra cosa che è sempre relativa allo sviluppo però era più da interfaccia quindi più su soft skill tra virgolette e quindi mi sono dedicato a quello quindi diciamo che quel caso secondo me non è da considerare molto su questo caso che invece è più su gli avanzamenti di carriera allora la cosa che io posso dire è questa qua ed è un'altra opinione by Mitch Mitch la pensa così non è detto che sia la cosa giusta allora scusa Diana ma la devo far lunga perché se no non si capisce vai vai cioè ci mancherebbe allora quando inizi a lavorare hai uno stipendio uno stipendio di x ora facciamo proprio cifre tonde sbagliate 1000 euro al mese ok quando diventi mid ne guadagni 1500 quando diventi senior ne guadagni 2000 ok faccio proprio non sono cifre realistiche sono proprio numeri a caso allora con 1000 euro magari nella tua città ci vivi a stento devi tirare la cinghia per ogni cosa con 1500 vivi bene non metti neanche un centesimo da parte con 2000 vivi bene riesci a mettere soldi da parte farti le vacanze e star tranquillo ora quando fai il salto sulla carriera il salto sulla carriera lo puoi fare secondo me per 2 sbarra 3 motivi al primo motivo è economico voglio guadagnare di più e da programmatore non riesco a guadagnare più di 2000 quindi se voglio guadagnare 3000 devo andare a fare il manager e allora quello è un motivo ti stai scegliendo i soldi rispetto al codice e allora vai a fare quello ti piace dici ok io scrivo codice però mi piace gestire il team mi piace disegnare architettura o cose così e allora in quel caso non lo stai scegliendo per i soldi o magari non solo per i soldi ma lo stai scegliendo per il ruolo il terzo caso invece è quello un po' che ti ci ritrovi cioè l'azienda per cui lavori a un certo punto vedi che sei bravissimo a gestire le deadline ai team anziché farti scrivere codice e ti fa fare quello nei primi due casi è una questione di scelta perché oggi un programmatore senior bravo in Italia vive tranquillamente a livello economico chiaro non apriamo i discorsi all'estero si guadagna di più eccetera eccetera perché lo sappiamo benissimo e non diciamo non è un discorso che vuole parlare a quello però dico se sei uno sviluppatore senior bravo in Italia vivi tranquillo compri la casa la macchina fai le vacanze e non hai problemi chiaro che se diventi un manager guadagni di più e più soldi hai meglio è però secondo me la differenza tra 1000 e 2000 è enorme ma tra 2000 e 4000 è veramente poca perché tutto quello che hai oltre una certa soglia è un di più quindi se il tuo scopo nella vita è scrivere codice lo puoi fare per tutta la vita cioè non hai grosse difficoltà perché più esperienza accumuli più bravo sei e più sei appetibile poi è chiaro che magari oltre un tot di stipendio non riesci ad andare però va bene così cioè sei quello che vuoi fare va bene conosco tantissime persone io in primis mi è capitato di farlo varie volte nella mia vita in cui mi sono ritrovato nel caso 3 che avevo detto cioè quello che siccome in azienda avevo acquisito abbastanza confidenza da iniziare a fare cose che non mi piacevano ho un certo punto ho detto sai che c'è lascio e vado a fare il programmatore l'esempio più lampante di questa cosa è stato lasciare un contratto a tempo indeterminato full time pagato bene per un contratto part time dove scrivevo codice l'ho fatto perché sapevo che non era comunque una pazzia che un lavoro dopo da sviluppatore al più l'avrei trovato se in quel determinato posto non stavo bene poi è andato tutto bene e quindi ho continuato a fare quello nella vita quindi è solo una questione di scelte poi diciamo che il covid ha accelerato una cosa che già era in atto sia il fatto che molti ho esempio degli amici che lavorano dall'italia per aziende estere guadagnano molto di più di uno sviluppatore in italiano però stanno in italia sono al loro paesello felici e contenti non gli pesa il fatto di lavorare da soli e quindi felici loro quindi come dire se vuoi scrivere codice hai migliaia di possibilità per continuare a farlo e non bisogna basare la propria carriera solo sull'aspetto economico secondo me perché è un insieme di cose cioè i soldi fanno comodo a tutto ma non sono la cosa più importante è chiaro che devi viverci lasciando stare proprio tutto il discorso generico cioè se non hai soldi per mangiare è un problema e quindi lì sono importanti però ribadisco se guadagni 2000 o 2200 euro poco cambia anche se magari vivi in una città costosa come Milano ne dico una a caso e cosa altro volevo dire quindi è una questione di scelte tutto lì ok allora nel frattempo sono arrivati hanno parlato un po' del fatto della partita IVA comunque andiamo un attimo avanti perché così evitiamo di farla durare mille e mille ore questa live quindi a un certo punto però te hai capito che il frontend era un po' la come dire la parte dell'informatica che ti convinceva di più anche se un attimino fatiamo un mito perché cioè te ti occupi comunque del frontend ma non fai tutta la parte comunque di grafica che è legata appunto CSS e roba del genere perché molto spesso questi ruoli sono visti come un unico ruolo sì esatto io allora io lo dico sempre scarsosamente a me tutti mi dicono che due colori assieme io non li so mettere ok e questa cosa si ripercuote sui colori e poi anche ovviamente su tutto ciò che è CSS cioè a me se mi chiedete di fare cose complesse io mi perdo perché non è una cosa che ho studiato e non dico che non mi piace in linea generale mi sono concentrato su altro e quindi quello quello va e la storia scusa piccolo aneddoto una volta un collega che faceva invece solo quella parte mi ha fatto vedere un tasto che aveva un comportamento strano diciamo strano oggi direi strano all'epoca dicevo un comportamento fighissimo mi piaceva un sacco e quindi quando l'ho visto ho detto ma roba è lì se lui mi ha detto cavolo ho sbagliato sta roba ma ti piace proviamo a lasciarlo così vediamo che dice il capo il capo a un certo punto eravamo seduti vicini al grafico chiamiamolo grafico per semplicità passa dietro il capo vede il bottone guarda il grafico e gli dice ma questo bottone è provvisorio vero? e il grafico si dice si 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 è provvisorio quindi questo vi fa capire qual è la mia come dire la mia capacità di produrre e avere oggettività su quelle cose nel frattempo Marco in chat ci scrive una cosa molto carina che dice una nuova filosofia di vita scrivere cose fa la felicità effetti cioè nel senso se effettivamente uno ha la passione che ha penso si scrivere cose fa la felicità si e secondo me quello deve essere proprio la base allora io ora ragazzi se state guardando questa live probabilmente volete fare questo lavoro in qualche ambito sotto ambito sotto ambito in termini magari non volete scrivere codice volete scrivere CSS dico una cosa a caso la cosa che io dico sempre a tutti è che io sono una persona particolarmente fortunata perché faccio un lavoro che mi piace e che è molto richiesto ma se io avessi avuto come passione ora non lo so ribadisco fare il pane io avrei aperto un panificio e se fai una cosa che ti piace veramente per cui la mattina ti alzi sei felice di fare quella cosa hai sicuramente molti più risultati di qualcuno che invece si alza solo perché deve farlo quindi nella vita non sceglietevi il lavoro perché probabilmente forse così eccetera eccetera sceglietevi una cosa che la mattina vi fa alzare felici se volete scrivere codice fino a 90 anni scrivete codice fino a 90 anni saremo tutti vecchietti a scrivere codice fico esatto e poi immaginati con i giovani e tu gli direi ai miei tempi ai miei tempi c'era twitch vero vero allora scusa ci dice che in parte era una cosa che ti stavo per chiedere infatti un problema del mondo del lavoro italiano è che cercano sempre di far fare tutto a tutti senza considerare che ci sono mille diversi sfaccettatori tra i vari servizi e livelli mi ricollego a questa cosa dicendo anche io un pochettino sto guardando tutti i mega mille mille annunzi che ci stanno un po' in giro e spesso sono davvero immensi e mi vien da pensare vabbè ma che applico a fare tanto non le so tutte queste cose è impossibile invece c'è nel senso vai allora qua apriamo un'altra questione che è filosofica allora parliamo di questo presupposto togliamo tutti i casi in cui l'annuncio è scritto male perché è stato sbagliato ok perché ci possono essere anche quei casi se un'azienda cerca una persona che fa tutto e tu non sai fare tutto o non vuoi fare tutto non è la posizione per te l'unica cosa veramente positiva di fare questo lavoro è che se sei uno sviluppatore non dico in gamba o bravissimo ma ti piace quello che fai e hai voglia di studiare un pochettino a parte il primo lavoro che come dicevo all'inizio fosse il più difficile da ottenere il resto non dico che hai veramente il coltello della parte del manico quindi se quella determinata annuncio di lavoro non ti piace ma non rispondere ok in Italia ce ne sono tanti così si ma vi garantisco che non è solo in Italia questa cosa questa cosa è un po' ovunque il problema grosso non è che ti vogliono far fare tutto almeno diciamo aziende normali non è che vogliono farti fare tutte che magari anche loro non hanno idea quindi mettono un annuncio che va bene sia per persone che non fare frontend e backend poi quando ti sentono capiscono che ti possono far fare tutte e due magari ti fanno fare tutte e due sei bravo col frontend allora ti mettono lì io a me molte volte è capitato di applicare degli annunci come frontend developer dove tra le richieste chiaramente c'è scritto ottima conoscenza di CSS io la prima cosa che dico al colloquio è io CSS non ne so fare cioè posso mettermi lì e provare però viene uno schifo e vi garantisco che un po' perché avevo esperienza avevo già fatto tante cose interessanti non mi è mai stato detto no non ti piglio perché non so il CSS mi è sempre stato detto vabbè non ti preoccupare tu CSS non ne scriverai ok quindi anche lì un annuncio che ha troppe cose cioè se tu ne sai fare due l'annuncio richiede 20 allora non applicare neanche perché non ha senso se l'annuncio richiede 4 e tu ne sai fare 2 o 3 inizia a pensarci perché magari è stato scritto in un modo dove hanno possibilità di manovra se l'azienda ti prende per fare il tutto fare fai un po' di esperienza e poi secondo me vai via ok ok allora intanto aggiungo a questo il Mitch filosofo è la mia versione preferita cambia carriera basta ora ti metti a fare il filosofo informatico Mitch esatto allora vai leggiamo questo allora vero questione di scelta e esperienze che hai sono sviluppatore di software per biologi bioinformatica raramente un cliente contatta me come individuo contatta un'azienda quindi per me è meglio fare carriera in azienda allo stesso tempo si diventa più specifici più settoriali quindi lo stipendio si alza ma i luoghi dove lavorare diminuiscono tipo un'azienda che lavora in reti software non si potrebbe mai non mi prenderebbe mai una farmaceutica ok però lì ok è molto verosimile il discorso diciamo che tendenzialmente dici cose giuste l'unica cosa è che dipende quello che tu fai perché ora io chiaramente raga la semplifico un sacco perché è un discorso molto complesso il che mi fa piacere perché sono domande molto molto toste se tu lavori in un'azienda non lo so farmaceutica che fa determinate cose tu ti occupi di sviluppo web oppure che ne so di gestione infrastrutture con docker e kubernetes dico proprio cosa a caso è vero che magari non hai esperienza nel settore bancario ne dico un altro caso ma se quell'azienda cerca qualcuno che sa usare docker e kubernetes oppure uno sviluppatore web oppure quello che è la tua esperienza è comunque rimendibile ok quindi dipende molto da quello che fai se come sviluppatore software che ne so fai machine learning per non lo so sequenziare le proteine di non so che cosa ora sto dicendo anche cosa a caso magari quell'esperienza te la puoi rivendere in machine learning per la finanza ok per le borse o cose così è chiaro che se nella vita invece scrivi il software per comandare l'attack quello è molto diverso e quindi lì è difficile rivendertela fuori però è molto dipende da quello che sai fare quindi se quello che per cui tu lavori è una cosa che comunque esiste in altri ambiti magari hai un qualche difficoltà all'inizio però riesci a passare anche perché ricordatevi sempre ragazzi questa è un'altra cosa che dovete mettervi proprio scriverla oggi perché non è detto che valga fra cinque anni oggi la gente competente è così poca che quando un'azienda deve assumere 50 junior ne trova 20 e 30 li va a prendere la biologia cioè prende i laureati in scienze naturali gli insegna a programmare e li mette in azienda che è la cosa il male ok perché è giustamente il male però immaginatevi se voi siete bravi cioè se siete bravi 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 ma chi vi ferma quindi era per dirti che si è vero però dipende molto da quello che fai e soprattutto ricordatevi che volere è potere io ho smesso di programmare per due anni e poi ho ripreso e non è che ho ripreso solo ho iniziato a studiare e poi ho trovato un'azienda a cui ho detto senti io ho due anni che non programmo quindi anche quello che mi puoi fare le domande magari non le so però ti garantisco che in tre mesi io mi rimetto il passo e spacco chiaramente gli ho dato dimostrazioni di quello che avevo fatto prima dello stop e l'azienda mi ha dato fiducia senza grossi problemi ottimo allora ragazzi intanto faccio qualche domanda io poi nel frattempo fate anche voi allora a un certo punto però te a parte che una veloce domanda proprio super rapida qualche pro qualche contro lavoro freelance e lavoro dipendente visto che l'hai tirato in ballo ok ok allora sempre esperienza by Mitch allora il pro più grande del lavorare come libero professionista quando l'ho fatto io nel mio settore cioè eccetera ero i soldi guadagnavo veramente tanto e altro pro è che se un pomeriggio avevo deciso che volevo dormire perché magari la sera prima l'ho fatto tardi oppure un giorno non volevo lavorare semplicemente non lavoravo al netto di cose obbligatorie tipo magari consegnare qualcosa poi dover parlare con un cliente questi due direi gli unici due pro che ci vedevano ah vabbè ok la scelta è la tecnologia più o meno facevo le cose come volevo farle io quindi non avevo nessuno e mi diceva così non va bene al netto che però doveva funzionare perché sennò il cliente non ti pagava però detto quello se usare PHP o no JS lo sceglievo io i contro sono veramente tanti allora per il mio carattere il mio modo di essere eccetera eccetera la cosa peggiore in assoluto era che non riuscivo a dire di no cioè prendevo qualsiasi lavoro che arrivava per la paura di perdere il cliente quindi questo non me lo sta chiedendo ora non me lo richiede fra un mese e non trovare altri clienti quindi avevo paura di lasciarmi scappare dei soldi che poi non sarebbero mai più arrivati e per questo mi trovavo a lavorare veramente tanto cioè di media io anziché fare le mie 40 ore da dipendente ne facevo 70 80 settimane ok dormivo pochissimo lavoravo i weekend lavoravo le sere ogni momento era buono per lavorare quindi questo è il primo lato negativo ma è un problema mio nel non sapermi gestire o pianificare bene le cose cioè lato freelancer avevo questa paura e quindi cercherò di fare tutto subito e così via secondo lato negativo come diceva Carmack se non sbaglio il codice è una parte del lavoro l'altra grossa parte è ringordare i clienti per farti pagare le fatture trovare nuovi clienti riuscire a promuoverti riuscire a far capire che quello che volevi fare costa mille perché ci vogliono tre mesi per farlo anche se sembra una stupidaggine e combattere con le modifiche ah no ma questa cosa io la volevo più rosa la volevo più blu e tu allora ti devi metterli a cambiare a fare cose magari per stupidaggini e magari dopo che le fai ti dicono no no era meglio prima e vabbè ma ormai io ci ho investito 12 ore di tempo e quindi me ne devi pagare magari ti dicono anche si però poi capite che non è proprio un lavoro che ha che fai solo col codice o tant'altro il problema del lavoro della dipendente perché fondamentalmente anche se ti va male fai un po' di straordinari tutti i giorni lavorerai non lo so 45 ore a settimana 46 ore 47 ore a settimana a meno che non lo vedi in aziende pessime molto pessime o magari in periodi perché se c'è la scadenza anche nell'azienda migliore del mondo magari lavorerai 60 ore quella settimana se hai tutte le settimane è un problema se hai una tantum no quindi detto questo sicuramente il po' più grande è che comunque una volta che chiudi il pc tendenzialmente sei più tranquillo esatto Carmack dice sostanzialmente da freelancer non hai le spalle coperte quindi bisogna essere pronti a questo ti ammali una settimana non riesci a lavorare nessuno ti pagherà o ti rompi tutte e due le braccia e quindi non puoi più pigiare sulla testiera vuoi andare in pensione ok ok quindi sì ci sono ci sono dei pro ci sono dei contro chiaro chiaro bisogna un attimo mettere sulla bilancia entrambe sì cioè ad esempio a me è capitato ora vi racconto un aneddoto solo così a me è capitato che avevo preso un lavoro da consegnare ora dico delle date a caso perché non ricordo da consegnare a ottobre ok l'avevo preso a luglio ad agosto avevo fatto un mese di stop cioè non avrei lavorato perché avevo deciso che quel mese non lavoravo questo cliente è venuto dicendomi Mitch senti non posso aspettare ottobre per dei motivi reali non era solo fretta da lo voglio subito e quindi sono disposto a pagarti quattro volte il prezzo concordato quindi molto molto di più se però me lo consegni entro settembre e quindi io che cosa ho fatto ho annullato il mio volo ho annullato la mia vacanza ho annullato tutto perché erano veramente tanti soldi rispetto a quelli che avevo preventivato e non ho fatto le mie vacanze ad agosto e cosa che magari in altri ambiti da dipendente è difficile che succeda non dico che non può succedere però è molto molto più difficile ok ah quindi dicono sulle 40-45 ore di solito lo standard anche all'estero 35 se trovi bene quindi anche se credo comunque che da freelance per ovvi motivi si lavora di più se ti limiti alle 8 ore di ufficio è improbabile portare a casa uno stipendio netto dignitoso anche io che sono infatti in vacanze e hai valutato i costi e opportunità praticamente sì infatti allora secondo me quello però dipende molto da che genere di freelancer sei perché se fai applicazioni a siti web allora magari sì se dai consulenza super specialistica allora ne parlavo in un altro video mio se tu sei l'unico al mondo che può risolvere un problema puoi chiedere la cifra che vuoi ok è un'azienda che ti paga la trovi ok quindi questa cosa chiaramente è scalabile a scendere all'infinito quindi se tu nella tua regione sei l'unico in grado di allora il prezzo puoi iniziare a farlo tu ok se sei uno dei mille sviluppatori web no perché se non accetti tu vado da un altro che magari costa la metà però se fate cose molto specialistiche tipo tu mi dai la tua applicazione enterprise scritta in angular malissimo che si autodistrugge ogni volta che cerchi di avviarla e quindi hai mille problemi in produzione e io in due giorni te la risolvo per sempre ti garantisco al 100% che non avrai mai nessun tipo di problema tu metti un'inserzione da qualche parte così e chiedi 5000 euro al giorno qualcuno che te li dà lo trovi ok però chiaramente poi devi saperlo fare quindi anche lì il discorso è se sei molto molto bravo più o meno il prezzo puoi farlo tu quindi dipende da quello che fai quanta concorrenza hai in quel settore quanta richiesta c'è perché magari sei il più bravo del mondo a fare applicativi con flash che però è morto e nessuno vuole mai più vedere non ti servirà a nulla quindi stai dicendo che non sono bravo dice anche il mac no no ragazzi no dico semplicemente anche lì però torniamo poi al discorso filosofico di prima cioè se ti ricoprono d'oro per scrivere in cobol però a te cobol non piace e ti alzi ogni mattina come se fosse un gironne dell'inferno e allora tanto vale che fai web guadagni il giusto per sopravvivere però almeno ti alzi felice cioè considerate che 40 ore della nostra settimana se va bene abbiamo detto le buttate lavorando cioè se fare una cosa che ogni volta che ci pensi ti viene voglia di correre in una direzione casuale e non farmarti fin quando non schiatti capisci bene che non è proprio il massimo quindi i soldi non sono tutti giusti per dare contesto anche alle cose che chiedono quindi si guadagna sempre poco da freelancer no ci sono freelancer che fanno tanti soldi perché magari sono super specializzati in una cosa hanno un nome e riescono a farsi pagare cifre anche importanti allora vai leggo questo di Marco poi io ho un po' di domande io lo porto sempre perché funziona come l'ombrello se ricordo di portarlo sono certo che mi servirà ok allora io ho tre argomenti che voglio ancora toccare prima di finire questa live non troppo infinita e sono community canale youtube e soft skills cioè non possiamo chiudere sto live finché non parliamo di questi tre argomenti sappiamo allora community allora vabbè Diana lo sa benissimo perché ci conosciamo proprio per questo allora per uno sviluppatore far parte secondo me di community in maniera più o meno attiva è una cosa secondo me indispensabile cosa significa far parte di una community significa che da qualche parte nell'Italia nella vostra città nel mondo ci sono degli appassionati della tecnologia che piace anche a voi che magari ne parlano tecnologia ma non per forza tecnologia potrebbero essere una community di soft skills che parlano come di come parlare in pubblico ok anche quella è una community anche la community di chi fa airbnb cioè di chi ospita le persone nei propri appartamenti è una community se vi piace qualcosa trovate secondo me una community che come dire parla e ha a che fare di quelle cose perché è importante farne parte allora è importante farne parte perché in tutti i casi freelancer dipendenti dipendenti di aziende piccole grandi studenti universitari o qualsiasi cosa è sempre bello confrontarsi cioè se voi riuscite a confrontarvi con altre persone riuscite ad avere altri punti di vista ok e questa cosa accresce il vostro modo di vedere le cose ora scherzando sul Mitch philosopher non è che il Mitch philosopher un giorno si è alzato e ha iniziato a dire queste cose le ha dette perché sono frutto di un percorso che è durato 35 anni nel mio caso quindi tutte le cose che ho imparato mi hanno portato a essere questo se facciamo l'estremo e il Mitch negli ultimi 35 anni è rimasto sempre chiuso a casa non ha parlato mai con nessuno non ha mai scambiato un'idea o una cosa non saprebbe probabilmente neanche parlare ok detto in maniera easy e quindi avere più punti di vista e più come dire confronto all'interno di un gruppo di persone è una cosa utile ed è utile sempre quindi se siete gli ultimi degli junior i primi dei senior o i primi degli junior e gli ultimi del senior è una cosa super importante quindi far parte delle community è importante poi le community ci sono quelle magari del linguaggio di programmazione che vi piace quelle che parlano un po' di tecnologia quelle che parlano non so di come coltivare i pomodori di qualcosa a caso però ci sono delle community quindi farne parte è una cosa utile nel settore degli sviluppatori lo è ancora di più perché siccome escono un sacco di novità ogni giorno non riusciamo a stare dietro a tutti tu vai a un evento oppure ascolti un evento online e a un certo punto qualcuno dal nulla ti dice oh è uscito Angular 27 e tu dici cavolo ma io ero rimasto al 13 che cosa ha di nuovo e magari la persona in 3 minuti ti spiega una cosa che tu avresti dovuto cercare su internet capire e così via quindi è utile quando si fa parte di una community questo è un appello verso chiunque sta guardando questa live la guarderà in futuro e chiunque mi ascolta se fate parte di una community ricordatevi sempre che qualsiasi cosa fate o dite ve la giocherete in futuro che significa significa che ora non è per vantarmi o cose io nella mia vita a parte due offerte di lavoro che ho cercato io tutte le altre offerte di lavoro e vi garantisco che non sono poche sono arrivate perché perché qualcuno mi ha detto sai ho visto come tipo nevi in questa situazione mi piacerebbe lavorare con te stiamo cercando questo ti piace? e cos'è così ok ora sto semplificando però prendetela per buona quindi se voi risultate le persone antipatiche che prendono in giro che si sentono superiori o che sanno tutto o al contrario non parlate perché entrambi sono il male magari queste occasioni non arriveranno quindi ricordatevi sempre che nel momento in cui voi dal momento in cui voi vi svegliate al momento in cui andate a dormire dovete cercare di essere almeno gentili col prossimo poi magari non concordare perché ci sono magari anche con Diana io non concordo su alcune cose non so da che cosa però è sicuro perché non siamo la stessa persona però se io parlo con Diana e con Diana faccio un dialogo basato in dando sua educazione disponibilità cerco di far capire il mio punto di vista e ascolto il suo punto di vista magari poi ognuno se ne va con la sua convinzione ma io e Diana continuiamo a essere amici continuiamo a scambiarci opinioni su altre cose in futuro e magari fra due o tre anni mi rendo conto di aver detto due cazzate a Diana e che effettivamente lei aveva ragione e a quel punto non ho bisogno di andare da Diana quindi scusami se l'altra volta sono scelerato e te l'ho iniziato a insultare non so dico cosa a caso quindi è super super importante sia far parte delle community che saperne fare parte e come dicevo per me sono stato un'enorme fonte di sia conoscenza prima di tutto conoscenza di tecnologie metodologie persone e offerte di lavoro c'è stato un periodo nella mia vita dove ogni volta che mettevo piede fuori casa mi veniva fatto un lavoro per strada stavo bevendo una birra sai t'ho visto che avevi fatto questa cosa sai che stiamo cercando ma perché non applichi cioè uno dei lavori della mia vita è arrivato così cioè io ero un sabato sera alle tre di notte in una piazza stavo bevendo una birra con gli amici si è avvicinato e mi ha detto ti ho trovato finalmente non so il nome visto che parlavi quella volta di questa tecnologia eccetera eccetera ma vuoi venire a lavorare da noi mi ha detto guarda non è proprio il momento ti lascio la mail scrivimi poi mi ha scritto e alla fine sono andato a lavorare per loro e sono passati più di dieci anni però è per dirvi che crea occasioni ora non è che sicuro trovate il lavoro se fate parte delle community sicuro vi fate un sacco di amici sicuro imparate un sacco di cose però farlo è sicuramente meglio che rimanere a casa al divano a guardare Netflix ok quindi cercate di partecipare soft skill che era la seconda giusto sì e poi ovviamente anche il canale YouTube va bene ora ci arriviamo allora soft skill allora qua la faccio con l'esempio che faccio sempre se tu sei lo sviluppatore più bravo del mondo ma non riesci a comunicarlo rimane il migliore sviluppatore del mondo seduto in camera tua ok se invece sei il migliore sviluppatore del mondo e sai comunicare sai scrivere le mail sai parlare in pubblico sai spiegarle cose e fai sentire a loro agio tutte le persone che c'hai attorno e riesci a motivare anche le persone più più sconfortate dell'universo eccetera eccetera sicuramente sarai più bravo ok quindi saper scrivere codice nella nostra professione è una cosa importante ma saper scrivere codice basta non ti serve a nulla saper parlare e basta non ti serve a nulla quindi se sei 100% codice 0% parlare perdi se sei 100% parlare 0% codice perdi se sei 100% e 100% vabbè vinci diventi il nuovo Zuckerberg il nuovo Larry Page o cose così ma se sei 20% so scrivere codice 50% so parlare magari non sei il programatore migliore del mondo però quando il team è nel panico perché sta scoppiando la produzione e tu riesci a tranquillizzare tutti li fai lavorare benissimo capisci bene che hai dei superpoteri in un certo senso quindi le soft skills ti aiutano tanto ti aiutano perché quando impari a parlare in pubblico e vai a una conferenza a parlare della tecnologia che ti sta tanto a cuore magari di fronte a te hai 300 persone e di queste 300 due persone stanno cercando una persona da assumere con quelle competenze che tu hai e raccontando come funziona quella tecnologia facendo il live coding raccontandola e tutto quel mondo lì glielo fai vedere cioè quello è già un colloquio è un colloquio che ti sei abbonato anche per anni dopo mi è capitato di conoscere una persona nel 2009 vi dico anche le date che poi mi ha offerto un lavoro nel 2012 e noi dal 2009 al 2012 non ci siamo mai sentiti avevamo solo scambiato il contatto ma visto parlare di una tecnologia nel 2012 cercavo qualcuno che usasse quella tecnologia io la sapevo usare quando sono andato a fare il colloquio mi ha chiesto come stai come va come te la cavi su ste cose ti faccio parlare col technical lead che mi ha fatto due domande tecniche in croce mi ha detto si pigliamolo e io ho trovato un nuovo lavoro per quella cosa ora è sempre esempi estremi che possono succedere oppure no però succedono cioè a me è successo di fare un talk su una tecnologia e una grossissima azienda italiana mi ha chiamato per andare a raccontare ai loro dipendenti come funzionava pagato con quello che io in 10 giorni perché questo corso durava 10 giorni in 10 giorni ho guadagnato quello che in quell'anno avrei guadagnato in un anno ok casualità non è che mi sia successo mille volte è successo una volta nella mia vita però almeno non succederà mai più però capite che è arrivato dal fatto che parlo in pubblico tratto le persone sempre con gentilezza anche quando sono in assoluto disaccordo tranne rarissimi casi cerco sempre di essere gentile e di pensare al contrario a quello che può essere frainteso nel mio modo di parlare di dire e così via e così cerco di migliorarmi quando c'è un problema non pongo o hai sbagliato o non hai capito cerco di porla come il cosa non hai capito cosa ho spiegato male perché poi magari mi rendo conto che qualcosa la potevo dire in un modo migliore e tutte queste piccole cose poi mi fanno migliorare insomma non è che sia il re del public speaking o del soft skill però ho fatto tanta esperienza è solo una parte importante cioè questo tenetelo sempre a mente non è che dovete per forza fare i talk in pubblico durante a 2000 persone però capire come parlare è utile c'è una domanda che ho fatto per un sacco di anni e colloqui era lo sai che cos'è un counting sort che è un algoritmo di ordinamento di numeri ok fai finta che io sia tuo nonno e spiegamelo e chiaramente lo vedevi uno subito che si ingegnava cercava di semplificare di accorciare di non spiegarti i tecnicismi e quella è una soft skill importante no? sapeva di assumere i concetti spiegare le persone non tecniche e quella persona lì la prendi magari la prendi come junior la la istruisci un po' poi dopo 2-3 anni la puoi fare mid senza grossi problemi magari dopo altri 2-3 anni diventa un senior pazzesco e quindi sono tutte robe importanti da coltivare vai c'è una domanda che aspetta un attimo giusto questa perché in effetti è una bella domanda dice prima della pandemia ho provato con un amico a creare una community locale di dev abbiamo cercato di renderla quanto più generale possibile perché non trovavamo gente che volesse partecipare consigli per come convincere le persone allora questa è una grande una grande domanda perché è super difficile all'inizio ok allora è che è difficile darti un consiglio specifico dipende secondo me da troppi fattori un fattore molto importante è dove vivi quanti sviluppatori ci sono in una tua città potenzialmente interessati ok perché ora vi faccio l'esempio mio se io apro una community di sviluppatori nel mio paesino che si chiama piazza smerina in provincia di Enna siamo 5 in totale ok cioè non è 5 un numero detto così siamo proprio 5 di numero ok quindi se io a questo evento per programmatori prendo 2 persone io ho preso il 40% del mio target ok se la apro a Milano e vengono 2 persone ho preso lo 0.0000001% quindi la prima cosa da valutare è quella cioè quanta gente quanto bacino ha la tua potenziale community seconda cosa purtroppo è una di quelle cose che prima di tutto si fonda sul passaparola quindi tu puoi fare post pubblicizzati su facebook e tutto quello che vuoi convincere le persone a venire da te 3 ore 2 ore 1 ora mezz'ora per perdere tempo uscendo di casa vestendosi oppure uscendo dal lavoro e correndo per arrivare in tempo è complicato quindi la cosa che devi fare su cui devi essere molto molto bravo è riuscire a prendere qualche persona anche poche all'inizio 5-10 farle venire e iniziarle a coinvolgere coinvolgere non significa vieni qui sul palco a parlare significa raga post speech post quello che hackathon o quello che stavate facendo ci andiamo a bere una birretta venite offre il primo giro di birra per dire no quando questo poi torna a casa e incontra il suo fratello che fa anche lui il programmatone e gli dice oh sai stasera sono andato all'evento della community sconosciuta number one e oh ma sai che dopo sono andati a berci la birra super simpatici i ragazzi eccetera magari la prossima volta questa persona che è venuta che era uno spettatore diventa promotore ne porta un altro chiaramente offre la birra era un un esagerare basta che fai qualcosa che parli con le persone e piano piano questa cosa succede no cioè io ho aperto un canale di youtube e ora le persone andando al canale di youtube io cerco di coinvolgerle gli dico sempre volete aiutarmi volete darmi una mano datemi dei feedback venite qua e io sono sicuro che queste persone dadomi danno una mano che già è una cosa stupenda no però siccome sono parte del gruppo perché io non è che mi sento Mitch developers life fine io mi sento Mitch con tante altre persone insieme developers life che è il canale youtube così almeno stoppiamo anche la domanda no tutte le persone che fanno parte del gruppo quindi non lo so i 1400x iscritti le 320 persone sul gruppo telegram tutte assieme siamo developers life poi alcune persone come dire non dico se ne fregheranno però non gli interesserà sono fuori fuoco scusate se ne fregheranno nel senso che non gli interesserà moltissimo sto solo peggiorando la situazione non gli interesserà far parte del gruppo in maniera attiva ma alcune si e magari quelle persone poi prenderanno e che ne so andranno in gira a raccontare che esiste questo canale youtube metteranno il posto i social e piano piano loro porteranno delle persone che saranno parte della famiglia che porteranno altre persone e così via cioè io penso che tutto deve essere basato su quello cioè se vuoi fare una community una community non è tu che parli di argomenti una community è un gruppo di persone che partono dall'organizzatore a quello che è passato per sbaglio davanti alla porta dove stai facendo l'evento tutto quello è il gruppo quindi tu devi cercare di coinvolgerli e poi loro diventeranno parte la cosa ora citerò Salvino che è manager del GDG Nebrodino e lui diceva io quando faccio gli eventi faccio quello che devo fare ma la cosa più importante di tutto è che il palco dove c'è la persona che parla sia bellissimo da vedere perché tutte le persone che vanno agli eventi fanno le fotografie ai tizi che parlano e quindi se io faccio vedere che è fighissimo quando questi poi pubblicano le foto sui social la gente che non è venuta dice cavolo dovevo andarci pure era bellissimo ok però se ho oltre non me lo perdo e capisci bene che alla fine è marketing no? cioè stai facendo marketing in vari modi con public relation con content creation eccetera eccetera non è facile è complesso però serve pazienza e l'altra cosa pazienza è tantissima costanza cioè se tu fai un evento ogni mese tu devi fare un evento tutti i mesi cioè puoi saltarne uno se ne salti due la gente ha dimenticato pure come ti chiami quindi devi metterti lì tutte le volte a stavolta sono venute solo tre persone mentre in genere me ne vengono cinquanta va bene prossima volta lo rifaccio comunque io quando gestivo una community a Catania mi è capitato di perché io non ero di Catania ero di questo paesino piccolissimo che si chiama Piazzeria di mettere un evento il giorno della festa patronale dove non solo tutta la città era la festa patronale anche quei tre poveri personaggi a cui non interessavano non potevano fisicamente raggiungere la location perché c'erano tutte le strade bloccate ok vedetevi la festa patronale di Catania per avere un'idea del di che cosa può succedere no io mi ricordo sono venute tre persone io quando le ho guardate ho pensato ma che ho sbagliato stavolta cioè l'ascosto l'ultima sono venute 80 ora tre e quindi gli ho chiesto gli ho detto ragazzi ma perché secondo voi siamo sono in quattro e non mi hanno risposto è perché c'è la festa patronale sotto intendendo bravo il pirla però poi ho continuato a farlo ok è capitato le vendie che andavano benissimo le vendie che andavano male poi lì è capire che cosa non va eccetera eccetera ok 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 quindi siamo allora però ci sarebbe una domanda sicuramente ora quindi come mai hai perso questo questo canale youtube e l'altra è come hai fatto a fare questi uno o due anni di carriera legata alla community e poi sei ritornato sulla strada maestra dello sviluppo quindi sono queste due cose che sono curiosa allora sul canale l'ho aperto semplicemente per un motivo così come te aggiungo che spesso andavamo alle conferenze giravamo in posti bellissimi con tanti amici fantastici che non nominiamo perché sono veramente troppi e poi è arrivato il covid no? e il covid è stato che è stato febbraio marzo aprile diciamo un po' di casino dove dicevamo ancora dai andrà tutto bene finirà presto noi usciremo più forti eccetera poi maggio così così giugno così così ad agosto si è iniziato a sentire che stava risalendo no? cioè c'era quel sentore del seconda ondata seconda ondata e io ho pensato vabbè se continuo così o tolco non ne faccio più non vado più in giro non parlerò più con le persone a me è una cosa che piace e quindi avevo pensato di aprire un canale per un paio di mesi dove raccontare delle cose e la cosa ovviamente come avete visto o vedrete mi è sfuggita di mano quindi ora pubblico tre contenuti ogni settimana faccio una live ogni settimana e faccio un sacco di cose perché tendenzialmente è una cosa super diversa cioè andare a una conferenza e parlare davanti dieci persone è molto più complesso per certe cose è molto più facile per altre rispetto a parlare davanti a una webcam e poi caricare un video su youtube sono cose diverse e mi piacciono entrambe quindi alla fine è un hobby la cosa che dico sempre a tutti è se vi chiedete quando io faccio tutte queste cose la notte il weekend e così via si sono ore che li togliamo l'ho aperto per quel motivo l'ho aperto per quel motivo scusa se l'ultima cosa è alla fine come dicevo all'inizio alle persone piace tendenzialmente vedo numeri che chiaramente non è che sia il nuovo non lo so youtuber con 3 milioni di iscritti ma non penso che mai nessuno nel nostro settore ci arriverà veramente a meno che magari non fai inglese o cose super particolari però il mio scopo era proprio farlo in italiano per le persone italiane per non spiegare la tecnologia perché anche lì cioè che fai mi metto a spiegare il codice ci sono migliaia di risorse cioè 15 anni fa avrebbe avuto tantissimo successo oggi no perché c'è troppe risorse e invece la mia idea è stata spiego com'è il lavoro com'è la vita come non so come affrontare una riunione o come andare il primo giorno di lavoro come scrivo un cv o cose così per aiutare le persone e questa cosa tendenzialmente vedo che aiuta tanta gente che magari vuole iniziare oppure anche studenti delle scuole superiori ultimamente mi hanno scritto un sacco di studenti delle scuole superiori chiedendomi ma mi iscrivi a informatica o ingegneria informatica è proprio la domanda top e io in maniera molto tranquilla ho preso il link del video e gli ho detto guarda c'è la mia opinione se hai dubbi sul video mi iscrivi e ti rispondo ed è un hobby cioè non ci guadagno nulla cioè si è vero ci sono attivate ora le pubblicità ma è solo per un esperimento che sta andando avanti da un mesetto e mezzo per capire le dinamiche però immaginate che faccio centesimi al giorno ok di pubblicità quindi non è un lavoro ne penso che li scuoterò mai è un hobby è una cosa che faccio con piacere perché mi piace così come probabilmente tu sei qui su Twitch non è che la cosa divertente è che anche a me è sfuggita un po' di mano dovevo fare solo le live questa del giovedì e poi invece ora faccio il lunedì il martedì il giovedì il benedì guarda guarda che è un po' è stata come la D8 c'è un 8 giorni liberi che faccio tutte le 6 live ogni sera è stato massacrante quindi allora se ancora non l'avete fatto intanto vi do il punto scadativo ospite con tutto sia il linkedin di Mitch sia il canale youtube che è developers life e allora quindi state dicendo bravi andate andate a iscrivervi sul canale io ogni tanto quando è che mi lanciano qualche domanda io comunque non neanche ne so molte però ho visto i tuoi video quindi dico ragazzi andate a vedere sul canale mi risponde Mitch tra le tante cose sto registrando in questi giorni cioè in realtà questi weekend quello passato il prossimo e quello dopo sto registrando i video nuovi quindi se avete delle domande che non sono presenti cioè se avete delle domande facciamo così se andate sul canale nel tab community c'è un posto e chiedo proprio esplicitamente se avete domande suggerimenti scrivetele qua sotto così posso registrarle e nelle prossime settimane poi vedrete i video quindi anche lì diano se hai suggerimenti o se le persone ci stanno guardando hanno suggerimenti ben venga ottimo quello un po' per tutti perché poi ti diverti eh sì ragazzi è abbastanza divertente fare queste cose cioè se uno come dire è un po' come l'informare è un po' come tutto sostanzialmente se c'è passione e ti prende cioè andare a dormire invece che alle 11 a luna come una delle ultime volte abbiamo fatto qualche live va bene nel senso si fa non è un problema è importante divertirsi esatto esatto ed è secondo me la cosa principale poi oggettivamente è anche una cosa bella perché quando dici sai aiuto anche solo una persona in più cioè io banalmente quando mi sono iscritto all'università ho avuto solo un po' di fortuna nel scegliere l'università giusta tra informatico e ingegneria informatica e io a un me di oggi che mi faceva il video su youtube che non esisteva all'epoca e dove mi spiegava la differenza io me lo sarei abbracciato all'inverosimile vero perché il rischio di sbagliare nel mio caso andrei nella facoltà sbagliata perché pensavo che fosse un'altra cosa era altissimo quindi la cosa che dico è se posso aiutare anche solo una persona e comunque una persona aiutata che male non fa poi il karma torna sempre indietro secondo me quindi vero vero sono d'accordo quindi una domanda poi sulla sulla tua carriera a un certo punto hai non hai fatto per un anno due lo sviluppatore ma il community manager come mai se ti è rimasta comunque come esperienza molto utile anche quando sei tornato a fare lo sviluppatore allora vabbè vale la cosa che ho detto più o meno all'inizio cioè tutte le esperienze sono utili ok quindi il fatto di aver conosciuto tante persone aver instaurato tante relazioni perché poi alla fine possiamo girarci attorno magari pagavano però per me è una cosa importante un po' come il canale youtube quello che dicevo prima quindi per me aver conosciuto delle persone tra le tante cose io ho detto che ho conosciuto proprio in quegli anni no e comunque allacciare rapporti è stata una cosa super utile super importante per la carriera in generale perché ora farò l'esempio stupido se oggi ho un problema allucinante con una tecnologia magari tra gli amici tra le persone che ho conosciuto nel corso del tempo c'è qualcuno che magari ha la risposta al mio problema e lo contatto è chiaro che non è un ok sfrutto lo contatto anche se passo la società per bere una birra però capite che questa cosa ha come dire è un vantaggio in dubbio l'ho fatto perché sostanzialmente mi piace tutto quel settore lì a me piacciono le community a me piacciono partecipare alle conferenze mi piace parlare in pubblico anche se magari è una cosa su cui ho sempre paura però mi piace parlare in pubblico mi piace conoscere gente nuova e quindi andare a una conferenza dove si conoscono poche persone significa conoscerne tante nuove e tutta questa cosa chiaramente è come dire positiva in generale dall'altro lato riprendere è stato un trauma perché è stato difficile non conoscevo più tante robe tecniche mi sono dovuto rimettere al passo e diciamo che fondamentalmente è stata ora è una cosa ibrida cioè ora lavoro molto di relazioni e anche di codice quindi ho imparato come magari dosare queste due cose quindi anche a livello lavorativo gestire il team si può fare nel sapete la classica figura leader vs boss no tu puoi essere un leader e quindi ispirare le altre persone e convincerle tra virgolette in senso buono ad andare insieme in un'unica direzione scelta magari da tutti o in un certo modo oppure puoi essere il boss che punta il dito e dice facciamo così questo è quello che bisogna fare per forza se mi dici qualcosa mi dai un feedback non ti ascolto è chiaro che quell'esperienza mi ha aiutato molto perché poi lavorare con le community significa non è che io potevo venire da te Diana e dirti devi fare questa cosa perché tu non avresti detto ah bello ciao però era il confrontarci capire insieme se c'era margine tra virgolette di manovra e poi insieme decidere una direzione dove andare no dove spostarci insieme è chiaramente una cosa super utile perché poi ho affinato le doti di relazioni di come trattare gli altri che non significa come manipolare gli altri ok perché anche lì una cosa che spesso viene confusa è oh chi fa sti ruoli cerca di inculcarti no no cioè la cosa è un rapporto alla pari dove io e te parliamo e insieme troviamo una strada poi è chiaro che se io penso A e tu pensi B tu non vuoi fare un passettino verso di me io non voglio fare un passettino verso di te ognuno rimarrà per la sua strana però se troviamo un punto d'incontro magari si può fare qualcosa assieme e questo poi te lo ritrovi perché ora faccio la cosa stupida cioè non è che siamo qui a parlare perché per sbaglio Twitch ci ha collegati siamo qui a parlare perché in quegli anni abbiamo avuto modo di confrontarci abbiamo capito che il nostro modo di vedere sicuramente ha delle divergenze in generale perché ribadiscono non siamo la stessa persona quindi per forza di cose ci sono però ci troviamo e quindi a un certo punto io ti dico Diana perché non vieni in live con me raccontiamo e chiacchieriamo ogni tanto tu idem e così via ma è un esempio con te però ci sono tante altre persone e poi come dire la chiudo giuro cioè ci sono tante persone che io oggi reputo amiche ma proprio amiche cioè ci sono delle persone per cui oggi prenderei un aereo e andrei anche dall'altra parte dell'Italia per aiutarle se fosse necessario se avessero bisogno di qualcosa e queste persone quando io ogni tanto penso ma io qual è l'ultima volta che l'ho vista a questa conferenza ma io effettivamente tizio l'ho mai visto fuori da una conferenza e la risposta è no cioè io quella persona la conosco solo perché ci siamo visti alla Death Fest al Code Motion e poi ci siamo visti lì e poi ci siamo visti là eccetera eccetera e allora questa cosa ci ha creato un rapporto tale per cui io li reputo degli amici e capisci bene che quando succedono queste cose cioè mio nonno diceva chi è ricco di amici è povero di guai e questa cosa vale cioè vale perché io so che se ora dico la stupidaggia un domani cercassi un lavoro io chiederei a tutte le persone che conosco ragazzi sto cercando un lavoro e a differenza di chiederlo a uno sconosciuto che dice non è che mi frega ma perché dovrei chiedere alla mia azienda se c'è un posto per lui so che queste persone con cui ho legato con alcune siamo molto amici con altre siamo diciamo conoscenti ma in ottimi rapporti se avessero possibilità di spendersi si spenderebbero ora faccio un esempio stupido però l'esempio banale è vai in un'altra regione che non conosci e scrivi il messaggino alla persona che vive lì vicino chiedendogli dove vado a mangiare gli arrosticini stasera che insomma è capitato a pescara oppure arrivi in un posto mi è capitato a Gela sto andando a mare lì in quelle zone ho scritto ai ragazzi che conoscevo Gela di una community di Gela ragazzi sapete che sono qua in zona ma dove mi consigliate di andare a pranzare e loro mi hanno scritto mandaci la posizione che ti veniamo a prendere noi per andare a pranzare cioè capisci che tutta questa cosa è una cosa bella cioè crei proprio un mondo no ed è bello sì no infatti io direi che il classico forse stereotipo che c'è sull'informatico che sta davanti al computer con la felpa al buio secondo me non è vero mai cioè non esiste magari qualcuno c'è cioè non assolutamente però secondo me non siamo cioè non c'è più infatti vedo che in chat dicono speriamo di riuscire a farcene a bere tutti assieme quanto prima cioè penso che questa cosa tutti ne abbiamo bisogno banalmente siamo tutti appassionati di un qualcosa che ci unisce e ci fa piacere condividerlo sì comunque concordo con te cioè non esiste quasi più nessuno poi la cosa che dico a tutti questo è un appello per tu che stai guardando questo video se ti capita di partecipare a queste cose quindi a un evento a un meetup a una conferenza e ti viene detto dopo ci andiamo a bere una birra vieni la risposta che tu devi dare è sì per forza perché dopo che tu ti fai quella birra poi torni a casa e mi scrivi un messaggio e mi dici com'è andata cosa ne pensi e vedrai cosa intendiamo io e probabilmente Diana dicendo è proprio un mondo capito ti si apre un mondo di ti direi opportunità ma non la vedete come opportunità lavorative no c'è l'opportunità di crescere anche personali sì no soprattutto personali che è una cosa bellissima cioè io vi potrei raccontare tipo non so anni tipo vabbè questo ogni tanto io lo faccio vedere nei video tutti i badge tutti i badge ora chiaramente non si vedono benissimo ma sono veramente tipo questi mi pare che sono 170 e non sono tutti e quando ci sono stati anni in cui ogni sabato e domenica ero in giro per l'Italia a una conferenza ok ma in giro per l'Italia significa che da Milano partivo andavo a Palermo a Messina o a Bari che ne so a Roma ne ho girati veramente tante io mi ricordo che io tornavo a casa stanco morto lunedì lavoravo spesso stanco morto ma estremamente soddisfatto e 20% di soddisfazione dalla conferenza il talk che avevo fatto i contenuti che avevo sentito 80% ho conosciuto una persona nuova super interessante ho rivisto tizio che non vedevo da due anni e così via ed è parte secondo me del nostro modo di essere umani sono d'accordo bella bella questa chiusura comunque io anche ti ho rubato l'idea dei belgini qui ne ho molti di meno di te però in effetti mi fa sentire mi fa pensare ai vecchi tempi ecco momento sentimentale sì lacrimette lacrimette esatto quindi niente sì raga speriamo che si ricominci a fare questi eventi anche se io ho il timore che quando ricominciamo ci buttiamo tutti e tutti gli eventi no infatti infatti la cosa che succederà nel momento in cui si potranno fare gli eventi è che qualcuno con polso quindi io voto tipo una una combo non lo so tipo secondo me la combo perfetta potrebbe essere Diana Yuna Shuty cioè una cosa del genere quindi un po' di di ironia ma anche polso della situazione che dà tipo delle direttive perché se no il rischio è che tipo tutti ci spostiamo di città e non ci troviamo comunque è vero che poi quella è la cosa perché se si inizia ad andare tutti in una parte cioè se tutta l'Italia fa eventi noi ci spostiamo tutti in qualche altra regione in cui non siamo stati per un anno e mezzo e quindi non ci incontriamo facilmente secondo me quindi bisogna organizzarsi bene assolutamente e allora vai un'ora e mezzo ci siamo siamo rimasti nei tempi sto iniziando a migliorare da tutto questo punto di vista dico solo una cosa in chiusura che Olistici ogni tanto riaffiora l'indole da Ikikomuri e che ogni tanto spunta fuori nelle nostre live chiaro quello cioè io in primis lo dico sempre tendenzialmente sono una persona sociale però sono la prima a essere qui e aver creato la community che siete voi in chat e è bello bisogna un attimino mettersi in gioco uscire dalla zona di comfort ora non voglio fare molto la filosofa però ci sta si e poi aggiungo una cosa importante perché io sono un tipo campione mondiale ma anche universale di divaning cioè se io potessi io vivrei sul divano però cioè per una conferenza è così bello che comunque alla fine decido di andare anche se magari comporta a svegliarsi presto al mattino voli autobus cioè quando sono andato a Urbino cioè è stato il viaggio della speranza ragazzi Milano Urbino guardate come si arriva da Milano a Urbino ok cioè è stata una cosa tremenda ma sono arrivato ed ero la persona più soddisfatta dell'universo e quando sono tornato chiaramente è uguale anche lì il viaggio della speranza è modente un Mitch modente beh direi aggiungerei anche birre e arrivi in un locale e ritorni in divani di altra gente come è successo qualche deathfest fa a Pisa esatto sì poi storie divertenti su questa cosa c'è ah Diana dovremmo fare una cosa ora ti propongo una nuova live per il tuo canale da fare una tandem perché sennò è esagerata vai tipo storie di conferenze cioè ti inviti venti eventi che immagini cioè quelli che conosciamo dove ognuno ti racconta una storia di una cosa che gli è successa a una conferenza una deathfest a un meetup e così via sai quante storie fantastiche escono mi piace c'era Nicola che si stava portando il mio pc in Germania quell'anno io mi sono svegliato con gli incubi pensando a sta cosa mi sveglio prendo il telefono leggo il messaggio di Nicola ho lasciato il tuo pc a Leonardo che però alle 10 torna a Roma quindi devi sentirlo entro alle 10 e io mi ricordo che ho chiamato Leonardo che era un morto un morente perché era presto la mattina per dirgli che facciamo e io sto andando alla stazione e vabbè con il rischio di avere il mio pc a Roma che è proprio dall'altra parte quindi va bene mi piace questa proposta d'accordo va bene allora direi che possiamo anche andare a far cena così evitiamo di di prolungarci troppo ho un po' di notizie allora mi raccomando andate tutti a mettere no come si dice a attivare la campanellina nel canale iscriversi attivare le campanelle ancora non sono abituata al canale di Mitch io sto ricaricando tutte le live queste qui serie delle interviste su youtube ma chiaro mi piace che voi state qua così chiacchieriamo lì è solo un po' da archivio lo userò e poi cos'altro allora se non siete ancora dentro al discord punto esclamativo discord se non mi seguite ancora su instagram punto esclamativo instagram così vi beccate tutti gli aggiornamenti di tutti i giorni che l'alve fazzo il lunedì il piano di tutta la settimana ci sono ovviamente qui su twitch gli abbonamenti dove dite ma perché dovrei spendere i soldi andate a leggere le informazioni e scoprite tutto quello che c'è da scoprire in più se avete il prime è gratis quindi nel senso tanto vale mettere qui questo abbonamento poi niente ci vediamo noi domani sera con il salotto quindi chiacchieriamo di un paio di argomenti probabilmente ci sarà anche Simone Sanfratello come come aggiungi un posto a tavola quindi anche te mi ci sono una volta ti viene voglia di chiacchierare però si fa di sera post cena chiacchieriamo su un tema un argomento un articolo un qualcosa che si è deciso un pochettino prima uno di noi lo espone e poi ci si chiacchiera durata un'oretta un'oretta e mezza non di più perché no volentieri ok e niente quindi Mitch grazie mille è stata un'oretta io aspettavo sono sempre pronta va bene grazie mille a tutti in chat se comunque ci sono sfuggite le domande scriveteci scrivete me o a Mitch in base a chi era indirizzata la domanda in privato su tutti i social che volete non siamo ovunque e niente ci sentiamo domani grazie mille a tutti ciao ciao